Tu sei arrivato in Ungheria nel 2005, quando a un certo punto tu hai risposto ad una chiamata dei vostri superiori che vi dicevano abbiamo bisogno di regali, cioè persone che si mettano a disposizione per la missione nel mondo e lì ti sei ritrovato praticamente a dover obbedire ad una scelta che era nel tuo cuore, quale? La vita religiosa o la vita sacerdotale parte da una logica di amore, quando uno ama qualcosa o ama una persona vuole essere presente con quelle persone. Allora sotto questa logica mi sono messo con tanta gioia ai superiori per andare a qualsiasi missione perché come salesiani noi vogliamo essere sempre tra i giovani e i poveri. Questa giornata della memoria oggi da voi come è vissuta? Dalla mia conoscenza questa giornata non è vissuta tra questa gente, non so per che motivo, anche la giornata mondiale dedicata agli zinghari, anche quella non è tanto conosciuta. Forse perché loro sono già ben inseriti nella società ungherese, preferiscono festeggiare le feste nazionali, le feste ungherese, forse questo tipo di esperienze negative non è molto ben festeggiato. Tanti anni, diversi anni proprio con gli zinghari, che cosa hai imparato da loro? Come ti hanno fatto del bene loro a te anziché tu a loro? Io sono arrivato in quella missione nel 2006, parlavo un po' di ungherese però non tanto bene perché è una lingua abbastanza difficile. Il primo giorno noi abbiamo preso una piccola casa e noi salesiani abbiamo vissuto per quasi tre anni dentro il villaggio tra questa gente. fino ad oggi non mi hanno fatto neanche un gesto di rifiuto mai, non ci hanno rubato, non ci hanno fatto delle ma... mai. Invece il primo giorno quando facevo un giro con alcuni ragazzi dell'Ortorio dopo una partita di calcio, sono entrato in una famiglia, ci arrenghi il ragazzo e sua mamma, una giovane signora di 28 anni, dice al suo marito, guarda, padre Simone, la faccia, il colore, tutto come noi, zinghano e nostro fraterno. Questa era la prima reazione e sempre ho continuato a sperimentare questo tipo di accoglienza da parte di loro. Quindi tu non hai mai avuto paura, quindi hai capito che erano soltanto pregiudizi quelli che avevano altre persone e si può... Tanti sono pregiudizi, dall'altra parte la realtà, la situazione di povertà o di miseria o altri problemi che portano forse alcuni di loro a essere un po' violenti e un po' come si dice senza rispetto verso gli altri. Però invece il momento quando un giovane ragazzo o una famiglia comincia a riconoscere te come un amico cambia tutto. perché Don Bosco, la metodologia che ci ha lasciato, il sistema preventivo, è proprio ideale per lavorare con loro. Perché diceva Don Bosco, fatti essere amati. Per cui ci sono tre passi nell'educazione, perché Don Bosco dice che l'educazione è una cosa del cuore. Allora prima cominciare a amare loro. Il secondo è che loro devono sentirsi amati, però alla fine tu devi essere amato da loro, quello più difficile e importante. Però questa gente subito riconoscono questo, se tu veramente vuoi bene a loro, se no. Allora da quel momento si apre nel cuore e ti accettano senza condizione.